Una stradina nascosta all'interno di una radura del Parco San Bartolo è stato luogo di ritrovamento di un corpo senza vita su cui gli inquirenti stanno ancora indagando. Nella serata di ieri, giovedì 27 aprile, una macchina a luci spente con gli sportelli aperti ha attirato l'attenzione di un passante che avvicinandosi si è trovato davanti ad un corpo esanime riverso sui sedili. Si tratta di un pesarese di 80 anni che, secondo i primi soccorsi, sembrerebbe essere stato colpito da infarto o da un malore improvviso che non gli ha dato via di scampo. C'è però un aspetto importante ancora da chiarire. Pare infatti che l'uomo sul Monte San Bartolo non fosse da solo e che con lui ci fosse una donna. Polizia e medico legale hanno effettuato una ricognizione sul corpo per cercare eventuali segni di collutazione, ma di tutto ciò non c'è traccia. Così come non sono rinvenuti tra gli effetti dell'uomo circa 700 euro che, secondo i familiari, aveva con sé per effettuare dei pagamenti. A pochi metri dall'abitacolo della macchina è stato ritrovato il cellulare dell'uomo. Tutto però fa pensare ad una morte per cause naturali. Il magistrato ha però disposto all'autopsia per fare massima chiarezza sull'accaduto, mentre la polizia tenta di rintracciare la donna.